Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Fare attenzione per nebbia a banchi segnalata nel tratto appenninico tra Rioveggio e Aglio. Sulla FIPILI in direzione Firenze rallentamenti tra la Strassigna e Firenze e Scandicci chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina per lavori. Per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Ricordiamo che oggi fino alle 13 è in vigore uno sciopero generale del TPL. Per quanto riguarda i bus di Autolinea Toscana è servizio garantito dalle 12 e 30. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!